Vedi, questa canzone qui, guarda l'idea che fa lui, ma io la pensavo sottofondo qui, ma Marti dov'è? Dove sei? E' qui. Perché io penso che, beh, lui è un ragazzo che io ho conosciuto stasera, vanno a entrare qui senza qualcuno, allora io ho pensato questa cosa qui, tu cos'hai che fai? Boh, grazie. Lui, beh, glielo facciamo dire a lui? Eh, io direi. Fate un applauso intanto. No, perché lui è emozionato, anche io ero emozionato una volta, anche adesso. Lui deve cantare, vuoi cantare lui? Sei sicuro? Lui, sì, forse è meglio che ti presenta lui. Sì. Scusate, allora rubiamo un minuto a Enzo che farà ancora un applauso perché, nonostante i disagi, è qualche piccolo, diciamo, l'invippo tecnico però è andato avanti alla grande. Invece vi volevo presentare Marti e Bruno, nonché figlio di Ramon, Bruno, il passificio Morena, che tra qualche giorno andrà a riga per una manifestazione calore, quindi Lettonia, di Litorno. Un applauso, così vi vogliamo soltanto presentare il terzo rap che non c'è nulla, non c'è l'interno, ma forse sì. E quando Lorenzo è pronto partiamo con la base, ma è un applauso, è la prima volta sul palco, quindi che sia di buon auspicio, eh? Forza Marti, dai. Grazie, grazie. Grazie.